Due start-up innovative, di cosa si tratta? Si tratta di un'applicazione per valorizzare il territorio, che utilizza tecnologie innovative di ultima generazione per poter far interagire l'utente, che può essere il visitatore, oppure il cittadino, e scoprire il nostro territorio. Da cosa è nata questa idea? È nata appunto dall'immenso patrimonio artistico, culturale e storico che abbiamo qui a Gaeta, e un'opportunità per poterlo valorizzare e dare voce al nostro territorio, anche a livello internazionale. Come pensate di posizionarvi sul mercato? Sul mercato non c'è molta concorrenza, è un'applicazione comunque settoriale mirata al territorio di Gaeta, quindi specifica per il nostro comune, e verranno divulgate delle targhe informative su ogni punto di interesse che rimanderà poi ai contenuti all'interno dell'applicazione. Quali sono i fatturati che pensate di realizzare? Su questo stiamo ancora definendo un bilancio ben preciso, stiamo valutando quali servizi offrire a pagamento, quali gratuiti, ma comunque l'80% dell'applicazione sarà comunque fruibile gratuitamente da tutti gli utenti. registriamo nome e cognome e il nome della start-up. Gian Piero Di Cecca, il nome che è stato dato all'attività Innovation Project, ma in particolare, nello specifico, Gaeta in App, che è il nome del progetto stesso.